Benvenuti in questo nuovo video recap di serie A visto e considerando che dobbiamo aspettare due settimane per poter rigiocare le nostre squadre vista la sosta delle nazionali che io detesto Mi raccomando supportate questo video con un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mi raccomando entrate nel mio gruppo telegram Trovate tutti quanti i link qua sotto in descrizione e anche dei miei profili social, instagram e tiktok E cominciamo subito ragazzi perché dobbiamo essere ovviamente riassuntivi Parliamo un po' delle prime sette squadre poi magari diamo anche un'occhiata alla zona retrocessione Partiamo appunto dalla capolista, partiamo dal Napoli di Luciano Spalletti per parlare un pochino di calcio del nostro campionato E ragazzi il campionato ormai si è diviso in due parti, il Napoli che è straprimo e che quindi non ha più rivali Ragazzi un distacco clamoroso rispetto alla seconda ben 19 punti di vantaggio Ormai il campionato è bello che è andato e addirittura sta scomparendo la scaramanzia che è sempre stata presente a Napoli Dei tivosi partenopei ossia quella di aspettare prima di parlare Invece le strade si stanno già colorando di azzurro con il tricolore, i poster cioè qualcosa di fantasmagorico Così come il Napoli di Luciano Spalletti che ragazzi sta continuando a sorprendere un po' tutti quanti Sono indubbiamente una delle squadre più forti in Europa se non la squadra più forte in Europa In questo momento in Champions League sono andati avanti, l'unica competizione da cui sono stati eliminati è la Coppa Italia Dove hanno messo il turnover e poi sono uscite i calci di rigore contro la Cremonese Secondo me se l'avessero voluta veramente sarebbero andati avanti senza inserire troppe riserve Ma parlando di roba seria ragazzi il Napoli lo scudetto l'ha praticamente già vinto ok Perché dovrebbe succedere l'apocalisse per far sì che il Napoli non lo vincesse Quindi finché non arriva la matematica è vero non è assolutamente assicurato Però ragazzi i punti di vantaggio sono estremamente troppi viste anche le partite che rimangono al termine del campionato E sono 12 E' un Napoli che quindi dopo la sconfitta contro la Lazio che tra l'altro è una delle due stagionali in Serie A Dopo quella di Liverpool in Champions League è riuscito a riprendersi le tre vittorie consecutive Non subendo mai gol, zero gol subiti, tre clean sheet consecutivi E ragazzi ho letto una statistica incredibile Quara Xelio Simen che per me è il duo più forte in Europa probabilmente In Serie A sono andati in doppia cifra di gol entrambi, in doppia cifra di assist entrambi E nella somma di gol e assist sono ovviamente primi in solitaria Insomma devastanti sotto tutti i punti di vista Forse Simen non è andato in doppia cifra di assist Se non ricordo male Però ragazzi sono una coppia devastante Sta funzionando tutta la squadra Kim è il defensore più forte della Serie A E come dice Spalletti probabilmente è anche uno dei più forti in Europa Ha avuto una crescita esponenziale Complimenti aggiuntoli per il cascio mercato Ho scoperto anche Quara Xelio Allo Volkan, quissà che stanno andando da Dio, da manuale In quel centrocampo Sta funzionando tutto quanto Anche i tifosi che ragazzi sono in estasi E quindi il Napoli proprio ha già scritto la storia con questa stagione Anche andando solo ai quarti di finale di UEFA Champions League Dove comunque possono andare avanti Viste considerando che vanno ad affrontare il Milan di Stefano Fiori Andiamo sempre in ordine di classifica Dopo il Napoli, il fantastico Napoli Che non ha più bisogno di aggettive e descrizioni Andiamo alla Lazio Ahimè, la Lazio è seconda in classifica Ragazzi, la seconda forza del campionato Anche se ovviamente c'è la Juventus E quindi dai Diamo priorità alla Lazio Ma poi subito dopo andiamo alla Juventus Anche se poi a livello visivo Non sono né secondi né terzi Ma allora, la Lazio ragazzi vince il derby della Capitale Lo vince per 1-0 con la rete di Mattia Zaccani una partita molto complicata Per come sono andate le cose Rossa di Bagnes Una Roma che quindi rimane in 10 Roma tutta dietro Baricentro basso La Lazio poi ha trovato poco giusto Gol annullato alla Roma Dopo un minuto, praticamente due minuti Dal gol della Lazio Zaccani semplicemente favoloso Ragazzi, uno dei giocatori più forti Di questa Serie A quest'anno E fortunati per il gol annullato alla Roma Poi si sono difesi alla grande La Roma che ha alzato il baricentro giustamente Perché comunque doveva riprendere la partita Ma la Lazio comunque se l'è portata a casa Lottando con qualità E anche ovviamente con Tutta la cattiveria del mondo È una vittoria che dà estasi Però ora c'è la sosta E vediamo come tornerà la Lazio Sarri dovrà essere bravo A ricompattare il gruppo E a tenerli concentrati Anche perché ci sarà una gara importante E la trasferta di Monza È anche vero che in Europa La Lazio ha fallito Ha fallito anche il campionato In Coppa Italia Scusate, uscendo contro la Juventus E quarti di finale Mentre in Conference League Addirittura sono usciti contro la Zeta Alkmar Agli ottavi di finale Questo è un fallimento ragazzi Incredibile Visto e considerando che la Conference League Poteva essere una competizione Alla portata della Lazio Una competizione europea Riconosciuta dalla UEFA Che avrebbe dato tanto credito Alla squadra di Maurizio Sarri Tra l'altro Competizione vinta Allo scorso anno Dai cugini della Roma Anche sì O non c'ho cugini È una Lazio che ragazzi Indubbiamente sta facendo Un ottimo campionato Perché comunque 52 punti sono veramente tanti I primi in classifica Del campionato dei normali Perché poi ci sono gli alieni Gli extraterrestri Che sono a più 19 E Champions League Quasi consolidata Visto e considerando Che la Roma è a meno 6 Perché parliamoci chiaro Più 5 punti È vero Ma la Lazio ha entrambi Gli scontri diretti Quindi ovviamente Sono 6 punti Effettivamente da recuperare Per la Roma Anche se poi c'è il Milan Ha meno Ha più uno Che quindi ovviamente È una strada percorribile Ma la Lazio Ha i scontri diretti Anche sul Milan Ha i scontri diretti Sull'Inter In questo momento Cioè Quindi è comunque messa Molto bene E la Champions League Ragazzi È alla portata quest'anno Complimenti a Sarri Per il lavoro Ma non dovessero andare in Champions Sarebbe un fallimento Andiamo appunto Alla Juventus Parliamo brevemente Della Juventus Che è una squadra ragazzi Veramente Molto 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 forte Ok Se non sbaglio A livello di punti È anche sopra La Lazio Di uno Quindi insomma Non a livello del Napoli Però nelle ultime gare Si sono riprese Alla grande Hanno vinto Hanno vinto anche loro Il derby Ovvero il derby D'Italia Contro l'Inter A Milano A San Siro Per 0 a 1 Con la rete appunto Di Kostic Ragazzi Ci sono state delle moleviche Ma il gol Alla fine è stato Convalidato E ragazzi La Juventus Che va avanti anche In Europa League Sono ai quarti di finale Dopo essere arrivati Terzi nel girone Di Champions League Quindi non è una stagione Del tutto positiva E poi ovviamente Lui Incentua il tutto La penalizzazione Di 15 punti Però ragazzi A mio modo di vedere La Juve Se dovesse continuare così Potrebbe assolutamente Percorrere degli obiettivi Importanti Perché è ancora viva Anche per la Coppa Italia Dove è arrivata in semifinale C'è la strada spianata Viste considerando Che vanno ad affrontare L'Inter Che in questo momento Non è che sia messa Quasi tanto bene È una Juve Che quindi dovrà lottare Per il proseguo Di questa stagione Ma attenzione Perché possono assolutamente Fare grandi cose Magari in campionato Cercare di agguantare Perlomeno il sesto posto Anche se poi ora Sono a meno 6 Dalla Roma Che è quinto E a meno 7 Dalla Champions League Questo è qualcosa di clamoroso Hanno recuperato un sacco di punti Nonostante appunto La penalizzazione E insomma ragazzi La Juve viene appunto Da 4 sconfitte consecutive Quindi la sconfitta Contro la Roma Contro di noi È stata anche abbastanza Positiva Per il periodo Della Juventus Che prima della Roma Ragazzi Stava andando veramente Molto molto bene Quindi alla Grandissima Una squadra forte Dubbiamente Che ha un 11 titolare Incredibile C'è grande riserve Allegri insomma C'è una squadra importante In rosa Non giocherà poi così tanto bene Però ragazzi Convincono Convincono soprattutto In fase difensiva E con le Con gli squilli là Davanti Insomma È una grande Juventus Passiamo appunto All'Inter Ragazzi Che invece Non è che mi convinca Più di tanto Assolutamente Perso il derby D'Italia Comunque sì Si sono qualificati In Champions League Ma con tanta fatica Il Porto ha dominato Soprattutto la seconda gara Nella prima comunque Sono stati fortunati Con quel gol Di Lukaku All'ultimo Ma l'importante Qualificarsi in Champions In Europa E l'hanno fatto Complimenti all'Inter Anzi sono molto contento Perché comunque È una squadra italiana Ma in campionato Ragazzi Troppi passi falsi La sconfitta con la Juventus La sconfitta con la Spezia Che è la seconda consecutiva Poi la vittoria con il Lecce La sconfitta con il Bologna Cioè comunque cadono spesso Vittoria con l'Udinese E pareggio con la Sampdoria E ragazzi L'Inter ha perso Ben nove partite Di campionato E sono veramente tanto Considerando che sono passate 27 gare Per una squadra Che comunque A inizio anno Era tutta proposta Per lo scudetto Quindi comunque Non è una stagione Così poi Così tanto floria Anzi Dischiene addirittura Di non andare in Champions League Visto che sono a 50 punti E quindi Stanno in piena lotta Con tutte le altre Quindi attenzione L'Inter deve assolutamente Macinare i punti Di partita in partita Al di là Indipendentemente Da come giocano L'Inter deve portarsi Le partite a casa Deve portarsi Tre punti a casa Perché se no Si fa veramente dura Si fa dura E tutte stanno un po' Zoppicando là davanti Quindi ovviamente Non è che possiamo parlare Stra bene Tranne che del Napoli Però comunque ragazzi Bene o male L'Inter è andata avanti In Champions League In Europa sta dicendo la sua Sono in semifinale Di Coppa Italia Quindi poi non è così Poi è una stagione così tanto Scusate la ripetizione Negativa Però devono assolutamente Andare in Champions League E questo credo che sia chiaro Anche per i giocatori Che hanno a disposizione Passiamo al Milan Ragazzi che Ha 48 punti Meno 2 dall'Inter Più 1 dalla Roma Quindi in zona Champions League E ragazzi Non è che stanno vivendo Poi così Un momento importante Ecco no Perché comunque Dopo la vittoria Con l'Atalanta Per 2 a 0 Con vincente Arriva la sconfitta Con la Fiorentina Passano il turno In Champions League Ma ovviamente Con molte difficoltà All'Ontra Pareggiando 0 a 0 Col Tottenham Ma hanno resistito E su questo Non gli posso dire nulla Ottima fase Difensiva Ed era quello che contava Dopo la vittoria Clamorosa dell'andata Anche loro quindi Sono in Quarti di finale Di Champions League Ma affronteranno il Napoli Io credo che sia molto dura Dimenticavo L'Inter affronterà Il Benfica Vediamo Perché comunque Il Benfica È una grande squadra L'Inter non ha assolutamente L'obbligo di passare Perché comunque ragazzi La Champions League Penso che come obiettivo L'Inter Aveva quello di superare i giro E quantomeno provare Ad andare fino in fondo Vediamo cosa succederà Il pareggio Con la Salernitana Ragazzi Che ovviamente A San Siro fa male E la sconfitta 3 a 1 Con l'Udinese Che ha steso I rossoneri Ma quello che non ho sottolineato Prima è che Il Milan Andrà ad affrontare Il Napoli In campionato Il 2 di aprile Appena si torna a giocare In Serie A Tra l'altro Al Maradona Poi avrà L'Empoli Il Napoli In Champions League Il 12 E il Napoli In Champions League Il 18 Quindi affronterà In 16 giorni Il Napoli Per ben 3 volte E attenzione ragazzi Perché non è detto Che non vincano Tutte e tre le gare I partenopei Poi magari può succedere Anche il contrario Sono big match Può succedere di tutto Però ragazzi Attenzione Perché il Milan Potrebbe beccare E quindi Con questo Napoli Siamo sicuri che sono assicurati Di avere il posto In Champions League E ricordiamoci Il Milan è la squadra Campione d'Italia Indipendentemente Dal mercato Che sia stato fatto A giugno O comunque in estate Nella sessione Estitiva di calcio Mercato Andiamo Andiamo a spediti Andiamo a spediti Verso la Roma Ragazzi Sì La mia Roma Ovviamente Qui sono Opinioni Da tifoso In questo momento La Roma Non sta dimostrando Di essere una squadra Da Champions League Ma ovviamente Il disfattismo La vedo una cosa Veramente inutile Visto e considerando Che sei a meno uno Dal quarto posto E quindi in pieno regime Con i tuoi obiettivi Sei andato avanti A differenza Dei tuoi cugini Anche se non ho cugini Ripeto In Europa League Siamo ai quarti di finale Andiamo ad affrontare Il Feyenoord Non è un sorteggio Impossibile Ma molto difficile Visto e considerando Che il Feyenoord È primo Nel proprio campionato In area divisi E sopra l'IAC Che tra l'altro Hanno battuto Pochi giorni fa Sette gole Allo Shakhtar Insomma Tanta roba La Roma dovrà Faticare Per passare Il turno Ma l'Europa League Deve essere assolutamente Una rampa di lancio Verso la Champions Sarebbe la storia Vincendo questo trofeo Murigno Però ragazzi Ho paura Seriamente Che da Roma Non arriverà In Champions League Sarebbe un fallimento Incredibile Visto e considerando Anche il mercato Che è stato fatto I stipendi Che ovviamente Vengono pagati Ai calciatori Che ci sono giocatori Di enorme importanza Nella Roma E quindi Ragazzi Secondo me Abbiamo l'obbligo Di andare In Champions League La riassumo Così da di cosa E le ultime gare Ragazzi Sono veramente deprimenti A parte Il passaggio di attorno Con la Sociedad La sconfitta Con Sassuolo Rocambolesca La sconfitta Nel derby Della Capitale Che può far male La Lazio Ora così Agli scontri diretti Praticamente Di sta più 6 E quindi Ovvio che così Si mette veramente dura E purtroppo È giocato Per metà E passa tempo Con Roger Ibagnes Che viene espulso E quindi Con un uomo di meno Insomma Si è reso tutto difficile La vittoria Con la Juventus Stava per dare speranza Dopo la sconfitta Clamorosa Con la Cremonese Ma una Roma Troppo altalenante Che se voglia Alla Champions League Deve essere assolutamente Più continua Così come le altre Che comunque Stanno percorrendo Per lo stesso obiettivo E mettiamoci dentro Sì Pure l'Atalanta Ragazzi E visto che ovviamente È lì Al settimo posto Al sesto Scusate Visto che c'è La Juventus Dietro E ragazzi È un'Atalanta Che non so Non so come definirla Perché anche Lei stessa Molto altalenante Anche più Della Roma La Champions Ormai credo che sia Utopia Però ragazzi Comunque è una squadra Che deve tornare Almeno a giocare L'Europa League Dopo che Lo scorso anno All'ottavo posto Non si sono giocati Assolutamente nulla Ok In questa stagione Niente Europa Gasperini ha fallito E vediamo Se lo farà Anche quest'anno Attenzione alla Juventus Insomma Ok Però Al massimo Potranno andare In Conference League E io Penso che sia Il tutto consolidato La vittoria Contro il Lempoli Sicuramente Può ridare fiducia Deve ricompiattare Il gruppo Gasperini Comunque Tornato Sapata L'Ukman Sta facendo Una stagione Incredibile Però ragazzi Ovviamente Assieme ad Oilund Perché è un giocatore Fantastico L'Atalanta È troppo discontinua Fa tanti gol In determinate partite Poi Casca In disgrazie Incredibili Parliamo di quella Con Napoli Ma ci può tranquillamente Stare 2-0 Al Maradona Il 2-0 In casa Contro l'Udinese Che fa male Il 2-0 La sconfitta A Milano Contro il Milan La sconfitta In casa Contro il Lecce Insomma Ragazzi È un'Atalanta Troppo Troppo discontinua Che poi È andata a vincere Allo Stadio Olimpico Di Roma Insomma A livello di risultato L'Atalanta Non si sa mai Come va a finire La sua gara Ecco Però comunque Sanno lì E sì Per l'Europa Ci sono Per carità Però non è una squadra Che mi convince Magari ora Con il rientro Un po' di tutti quanti I calciatori A disposizione di Casperini Potranno sicuramente Esprimere Il massimo Potenziale Ragazzi Che dire Lotta retrocessione Avevo detto Che l'accennavo Ma l'unica Che secondo me Può provare a salvarsi È il Verona Che può lottare Con lo Spezia A 24 punti Il Verona Ne ha 19 A meno 5 Però la Samp Sta a 15 punti La Cremonese A 13 Io le vedo Alquanto spacciate Fatemi sapere La vostra qua sotto Con un commento Spero che abbiate visto Tutto il video Mi raccomando Ragazzi Iscrivetevi al canale E noi Ci vediamo Alla prossima Con la nazionale Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima